Ben trovati, buon viaggio da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. Sulla Firenze, Pisa-Livorno, una perdita di carico tra Montopoli e Pontedera. La direzione è quella per Livorno. Attenzione alle condizioni meteo che creano disagi su strade e autostrade. Ci sono mezzi spargisale in azione. Siamo in A1 tra Pian del Voglio e Barberino di Mugello. Neve segnalata anche sulla statale 63 al valico del Cerreto. Neve sulla statale 62 della Cisa. Tra Villa Franca e Lunigiana e Il Passo. Nevischio sulla statale 12 della Betone del Brennero tra la Betone e la statale 467 di Scandiano. È tutto per il momento Moversi in Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi. Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze e Comune di Firenze e Comune di Firenze. mortality e Comune di Firenze e Comune di Firenze e Comune di Firenze.